Buongiorno a tutti, io sono Jessica, questo è il mio canale e oggi facciamo il primo giveaway su questo canale appunto è il primo che ho mai fatto, quindi sono un po' emozionata Allora, cos'è un giveaway per chi di voi non lo sapesse? È una specie di contest, una gara Cioè vi farò vedere un pacchettino Metterò in palio delle cose, ok? Poi una di voi vincerà e chi vincerà gli spedirò questo pacco Le regole sono, ve le lascio giù nell'info box, comunque sono semplicissime Bisogna essere residenti in Italia, bisogna essere iscritti al canale Bisogna mettere un mippy al video e lasciare un commento qua sotto Siete liberi di lasciarne più di uno, non c'è un limite Poi a fine giveaway io estrarrò la vincitrice attraverso un programma fatto apposta su internet Che si chiama random, estrazione random, non mi ricordo ora Io inserisco il numero di tutti i commenti che avete lasciato e lui ne estrarrà uno Andrò a vedere di chi è quel commento e quella persona sarà la vincitrice Ovviamente poi controllerò anche se questa persona è iscritta al mio canale e ha messo mi piace al video Ovviamente Il giveaway comincia oggi da quando andrà online il video E finirà, allora oggi, finirà il 15 di novembre Sì Allora il 15 novembre questo giveaway finirà E ora vi mostro le cosine che troverete all'interno del pacchetto regale Allora, non l'ho fatta apposta, è tutto tema molto blu Allora, come prima cosa c'è questa Yankee Candle Ha il profumo cel turquoise, turquoise sky, cioè cielo turchese Che per darvi un'idea dell'odore Sa di spiaggia, di mare Di spiaggia Ok? E questo sarà all'interno del pacchetto della vincitrice Poi c'è questa lima Che mi era stata inviata da un'azienda se avete visto il video E come potete vedere sono tutte cose nuove mai usate ovviamente E è blu Senza farla apposta è blu anche questa Poi questo porta chiavi carino che non mi ricordo L'avevo vinto da qualche parte ma non ho mai saputo cosa farmene Appunto questo rigorosamente anche questo è blu E infine se la persona in questione che ha vinto ha un canale youtube Potrà fare una collaborazione con me Cioè faremo un video tutti e due dello stesso tema Non vedo niente perché sono senza occhiali Con lo stesso tema io nel video metterò video Facciamo un esempio All in collaborazione con Pinco Pallina Quella chi è e viceversa Quindi i premi sono questi Più una collaborazione con me Ripeto vi lascio tutte le Le regole per partecipare Qui a fine video Giù nell'info box E per qualsiasi cosa se non l'avete capito Non esitate a contattarmi E quindi niente ci vediamo nel prossimo video Che vinco alla migliore Ciao ciao